Ciao a tutti, presento oggi un gioco per i bimbi più piccoli, infatti è un 3 più della Lishani Giochi che si chiama Mazzetti Rubamazzetti. Vediamo cosa contiene la confezione. La confezione contiene due schede in cartone che ci presentano gli altri giochi di carte presenti di questa serie e le nostre carte che saranno delle carte per rubamazzetto ma semplificate. Andiamo ad aprire la confezione. Come vedete le carte sono molto stilizzate e molto più facili proprio per permettere ai bambini di giocarci. In fondo troverete le istruzioni di gioco che adesso andrò a spiegarvi. Per giocare a rubamazzo andranno mescolate le carte e ne andranno date tre ogni giocatore che andranno tenute coperte. Noi le teniamo scoperte per permettervi di capire meglio le meccaniche di gioco. Andranno messe quattro carte in tavola. Se siete tre giocatori le carte in tavola saranno sei. A questo punto iniziamo la partita per esempio io vado a prendere il lama. La partita si svolge cercando di accoppiare le coppie. Se io riesco a prendere una coppia creando per esempio due lama vado a prenderle e piazzarle in un mazzetto davanti a me. A questo punto il giocatore che gioca contro di me andrà per esempio a prendere il leone. Anche lui farà la coppia e andrà a piazzare le due carte davanti a lui. In questo caso io ho un lupo che non coincide né con le carte in tavola né con il suo mazzetto e ho un leone che non coincide con le carte in tavola perciò non mi permette di prendere le carte in tavola ma mi permette di andare a prendergli il suo mazzetto perché è uguale al leone che ha sul mazzetto. Metto il leone sul suo mazzetto e mi vado in possessare del mazzetto che vado a mettere sopra il mio. Lui potrà rirubarmelo se possederà un leone o la carta comunque in cima al mio mazzetto. In questo caso è il suo turno. Lui ha una formica che non coincide con le carte in gioco o una volpe. Va a prendere la volpe e crearsi un nuovo mazzetto davanti a sé. Io ho il lupo che non corrisponde con niente e vado a giocarlo in tavola. Lui ha la formica che non corrisponde con niente va anche lui a giocarla in tavola. A questo punto andranno ridate tre carte ad ogni giocatore fino alla fine del mazzo e la partita continuerà. Alla fine della partita chi avrà il mazzetto più alto sarà il vincitore. Con lo stesso mazzetto di carte usato per giocare a rubamazzetto potremo anche giocare a una sorta di memory. Infatti andiamo a posizionarle coperte ogni giocatore svela due carte se riesce a individuare le coppie. Le prende per sé se non ci riesce le rigira al faccia in giù. Questa è una seconda possibilità per giocare a questo gioco con queste carte con lo stesso mazzo di carte quindi avrete due giochi in uno.